A parte, come ripeto, le punizioni, sono contento per la squadra, per il gruppo, perché veramente ce lo meritiamo. Abbiamo fatto un cammino strepitoso in campionato, stiamo facendo un altro cammino strepitoso da Polscudetto, l'annoreremo fino alla fine. Adesso ci andiamo a giocare questa finale e speriamo di regalare una gioia ai tifosi ulteriore a quella del campionato. Dico la verità sinceramente non perché la più piccolina non me la facciano mai battere, perché c'erano altri che si pavano battere sicuramente meglio di me. Nella prima avevamo uno schema all'inizio, però essendo marcato il nostro attaccante ho provato a tirare in porta. La seconda era da una zona migliore per il mio tiro e quindi lì ho provato il tiro. Però, come ripeto, sono contento più che altro per la prestazione della squadra, a parte un po' un calo nel primo tempo, poi nel secondo tempo siamo entrati compatti e siamo stati bravi a chiudere la partita. Sicuramente, però noi dopo quel famoso risultato a Cassino ci siamo compattati e la concentrazione è venuta lì, perché sapevamo che ogni partita, cioè partita per partita, non potevamo sbagliare. Quindi sicuramente la concentrazione la mettevamo già dal giorno prima della partita. E così anche in questa Polscudetto, perché ormai ci avevamo preso gusto, abbiamo fatto tutte queste vittorie di file e quindi siamo entrati nell'ottica di giocarci questa Polscudetto partita per partita e speriamo, come detto già che siamo arrivati in finale, di regalare una gioia ai tifosi che ci hanno seguito tutto l'anno.